Ci troviamo a Charleston, nella Carolina del Sud, e ci siamo imbattuti in una delle stazioni centrali dei Vigili del Fuoco risalente al 1886 e che mantiene ancora le sue fattezze originali. Questi Vigili del Fuoco sono stati super simpatici, cercando di convincere mio figlio a suoni adesivi a forma di distintivo su quale camion salire. Ero emozionato anch'io, e ho avuto la possibilità di guardarmi un po' intorno. Charleston ha visto non solo incendi, ma anche tornado, uragani ed epidemie. Ma fu nel 1861 che la città stabilì una organizzazione di Vigili del Fuoco permanente, purtroppo a seguito di un incendio che divampò sulla penisola, bruciando 575 case private, numerose attività commerciali ed edifici pubblici. E quello strumento antico che il Vigile ci sta mostrando non era altro che una scala con un uncino in punta, che aveva la funzione di rompere le finestre, aggrapparsi all'edificio in fiamme e usare la scaletta per introdursi al suo interno. Piccola curiosità, li avete notati quei tagli per terra sul cemento proprio di fronte all'arco d'entrata? Beh, anticamente il vagone era trainato da cavalli e quando uscivano di corsa, quei tagli fornivano maggiore presa all'animale lanciato al galoppo. E la mascotte dei pompieri l'avete notata?